Una commissione tecnica formata da esperti qualificati che si occuperà di rivedere il pacco BACI ed eventualmente anche le linee guida che avevamo approvato nel 2021, ma anche di fissare un tetto massimo di esemplari che il nostro territorio può ospitare a seconda delle caratteristiche, delle attività economiche presenti, ma anche del numero, come si suol dire, socialmente sostenibile da parte del nostro territorio. I tempi che abbiamo chiesto a questo gruppo di lavoro sono tempi celeri per poter dare delle risposte e poter avviare quindi un percorso di gestione sul territorio delle nostre comunità. Prosegue l'attività diplomatica da parte del Ministero per individuare i possibili trasferimenti in altri stati degli esemplari in sovrannumero, quindi non soltanto di quelli problematici. Vedremo quali saranno le risposte anche su questo, però noi dobbiamo comunque concentrarci su quella che è una gestione territoriale, rivedendo gli strumenti normativi e il pacco BACI rispetto alla situazione attuale.